ciao a tutti oggi vediamo questa particolare pinzetta come vediamo innanzitutto è autobloccante cioè blocca il pezzo senza tener premuta la pinzetta inoltre ha un comodissimo supporto che ci permette di tenere l'oggetto bloccato e sostenuto è isolata al manico isolato ciò permette di non scottarsi se si lavora con delle temperature elevate la parte finale della pinzetta è zigrinata proprio per tenere meglio l'oggetto che devo bloccare la posso girare anche da una parte o dall'altra proprio per mantenere l'oggetto sostenuto ad un'altezza diversa qui vediamo una semplice puntina una volta presa si blocca che non è necessario tener premuta la pinzetta vediamo inoltre che a seconda di come si gira la pinzetta avrà un'altezza diversa rispetto al piano può essere utilizzata nel modellismo nell'oreficeria ad esempio in questo caso vediamo che sostiene un oggetto di bijou con delle perline già montate può essere utilizzata anche con metalli e qualsiasi tipo di piccolo oggetto da sostenere posso così lavorare su perle e oggetti molto piccoli tenendoli fissati sopra al piano di lavoro senza dover tenere premuto alcuna pinzetta spero abbiate trovato interessante questo oggetto e vi invito a ricercarlo sul nostro sito elettronica didattica puntocom vi aspetto per i prossimi video iscrivetevi al nostro canale se ancora non avete fatto ciao a tutti e grazie per l'attenzione a presto